20 incontri solidali, 10 testimonianze dirette del mondo del volontariato e oltre 200 studenti coinvolti di tutte le scuole superiori andriesi. Sono i numeri con cui l'Anteas, Associazione Nazionale Tutela Tutte le Età Attive per la Solidarietà, in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, ha concluso una lunga campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema della solidarietà e della convivenza civile. Missione compiuta nonostante il periodo difficile. Credo che sia sempre un motivo di particolare orgoglio che associazioni che operano nella nostra comunità e nel nostro territorio si impegnino da un punto di vista della passione civile, ma in questo caso della convivenza civile e del volontariato. Questo dimostra anche un certo fervore di idee che anima la nostra comunità e il nostro territorio, accompagnato da politiche sociali che credo stiamo facendo in modo molto corretto da un punto di vista della programmazione. Qui ringrazio l'assessore delle politiche sociali, nonostante il momento sia difficilissimo da un punto di vista congiuntorale, riuscire comunque a sostenere queste iniziative è un merito ulteriore che dà contezze e dimostrazione di come attraverso la programmazione si possa superire anche alle difficoltà del momento e al contesto che stiamo vivendo. Il messaggio finale è lanciato soprattutto ai ragazzi e richiamo a non disperdere tra i miti di una falsa società del benessere l'autenticità e la ricchezza del proprio essere, in quanto naturalmente dotato di grande umanità e generosità verso se stesso e verso gli altri.